Sì, è una bellissima esperienza. Sono i miei primi giorni qua. Ho scoperto la squadra, l'allenatore e anche il campo. Il Milan è una struttura bellissima. Adesso stiamo lavorando bene e per il momento va tutto bene. Io posso giocare a tanti ruoli. Ho già giocato mezza alla sinistra, mezza alla destra, tre quartisti, anche punta esterna. L'anno scorso mi hanno fatto giocare anche tersino-sinistra a qualche partita. Credo che posso giocare a tutti i ruoli. È vero che devo giocare a un ruolo solo per dare il migliore di me. Come ho detto prima, è sempre stato un sogno venire a giocare al Milan. Adesso che ci sono, il sogno deve diventare realtà e io voglio giocare tutte le partite. Poi per giocare tutte le partite devo dare il 100%, devo dare il massimo. Poi nel Milan c'è anche la concorrenza, quindi io sono pronto ad accettare anche la concorrenza e poi deciderò il mister. Ma io sono qua per giocare e per vincere anche i titoli. Sì, sono arrivato lì perché Montari si è fatto male. Poi adesso tocca a me fare vedere che ho il livello per giocare qua. E io farò da tutto per dimostrare a tutti che posso diventare un grande. Grazie. 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 Grazie.